musica 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 madonna madonna musica 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 un attimo pensavo potessi sbagliarlo ce l'ho fatta una verticalizzazione era tutto solo vabbè qua il ruolo della Lazio clamoroso un parole giusto e ne andiamo in vantaggio e che cazzo quanto cazzo ci vuole a fare una roba del genere se vuole così tanto vai chiesa grande chiesa imbucata che buco calegare esulta come non mai che buco che buco che buco che buco di merda musica la chiesa al centro del villaggio chiesa 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 nel villaggio è tornato chiesa va beh se sbagliamo a questo una palla lanciata come Cristo comanda madre mia madre mia ragazzi madre mia difesa bucata e coda da Juve mamma quando giochi così capita questo cambioso la verticalizzazione da 60 metri di Cambiaso ne volevo parlare molto bella i due giovani i due giovani promettenti Cambiaso e Chiesa tutto è partito da questa giocata tutto è partito dal recupero di tacco di Locatelli vergognatevi e chiedete scusa a Locatelli ma appena lo vedo vi dico questo è proprio un regalo guarda che roba mamma mia prende sti gol così ma guarda che buco allora aspetta mi sa che Romagnoli si è trovato in mezzo a due perché Mariusic non è sceso a prendere Chiesa mamma mia ma guarda per me è più Casale che Romagnoli no è Casale non è Romagnoli è Casale che punta la porta Chiesa 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 ed è ferverito Chiesa ha segnato la Juve per chi non lo sapesse ha segnato la Juve vabbè ci sta ci sta hai capito che recupero ha fatto Locatelli sono quelle di Giusea ben gol vedi quando dico che bisogna metterlo a centrale a Chiesa è più forte che hanno sì hanno fatto un gol tirato in porta una volta hanno fatto un gol una cosa vuol dire tirare in porta le volte eh? si dice? adesso scommetto che per molti di voi non siamo più scarsi giusto? adesso non siamo più scarsi adesso ớv objetivo godi bravi sì 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 Sì! Ho fatto una bella azione, mi rai. Rientra e tira giro. Bravo. LITER! 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 Vai! Artusan! SIE! Go! Mediamo! Mediamo! Got in! Goto! Bello! 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 10 sub si segna! 10 sub si segna! No! Dusan Vlaovic! E adesso datemi le mie sub! Eeeeeee! Porco bello! Ma va bene dai! Dusan Vlaovic! Basta! Dio! Mi stavo con la musica! Oh! Però in Coppa Italia però eh! Ma mi devo incazzare! Però in Coppa Italia sapete giocare però eh! Ma non nelle prime... scusami! 2 a 0! 2 a 0! Dusan Vlaovic! C'è come cazzo? Aspetta! Ma dopo stasera? Come cazzo avete fatto a perdere? Allora Harry non funziona! Te lo giuro che non funziona così! Non è una matematica eh! Ma direttore hanno perso solo perché mi serviva per la schedina se no non vincevo! Comunque vittoria importante perché... Poi andiamo a Roma un po' più tranquilli diciamo così! Perché 2 a 0 è un risultato importante! Ragazzi abbiamo dato una risposta! Vediamoci anche il campionato! Adesso vanno a cercare un italiano! Allora... E... ... Non... Grazie a tutti